Buongiorno a tutti sono Pier Giuseppe Binetti di Remax Stella Polare oggi siamo a Cisternino precisamente a Caranna quello che vi mostreremo è una soluzione indipendente con 500 metri di terreno ci vediamo più tardi ben ritrovati questa è la soluzione indipendente di cui parlavo prima accomodatevi ci vediamo più tardi il corridoio ci conduce sulla sinistra ad una cucina abitabile con camino sulla destra abbiamo un salone con affaccio finestrato sull'esterno dell'immobile proseguendo troviamo tre comode camera letto matrimoniali una cameretta ed un bagno entrando da un accesso cavabile al lato dell'immobile abbiamo un altro locale in stato grezzo di 100 metri quadri inoltre la totità comprende questo terreno di 500 metri quadri chiamatemi per visionarlo di persona grazie a tutti grazie a tutti